Sono aperte le iscrizioni per l'anno accademico 2012-2013 del PASS, Accademia d'Arte e Spettacolo. Tre anni di successi, corsi di recitazione per stilisti e costumisti. L'Accademia PASS è anche corsi di formazione, master di perfezionamento per musicisti, cantanti, ballerini, hostess, modelle, attori, presentatori e giornalisti. Artisti di primo piano del mondo dello spettacolo italiano collaborano con la PASS nei corsi di approfondimento. Per informazioni ed iscrizioni PASS, info-appas.it oppure telefono 393-000-9523. PASS, Accademia d'Arte e Spettacolo. Tre anni di successi.